Trentino Volley giocherà la prossima Champions League, una bella notizia. Diciamo che recuperiamo il disagio che abbiamo avuto quando l'abbiamo dovuto sospendere. Siamo contenti, è ovvio che dobbiamo partire dalle qualificazioni che saranno diverse rispetto agli anni precedenti, però è un'opportunità che vogliamo sfruttare perché poterla finire lo scorso anno ci avrebbe dato piacere e adesso ci viene data questa opportunità, quindi ce la metteremo tutto per sfruttarla. Siamo molto contenti che possiamo giocare il Champions perché è un torneo molto importante dove giocano le squadre più importanti nel mondo. È tanto tempo fa che l'ho giocato, è l'anno di Cugno, allora sono quasi 7-7 anni fa penso, allora non vedo l'ora di rigiocarlo. È bellissimo sapere di essere in Champions League perché è uno dei tornei più importanti per noi atleti, quindi con un immenso precedente andremo a giocare questa manifestazione. Ovviamente abbiamo tanta voglia di giocarla e di fare bene perché una volta che ci sei dentro poi vuoi andare a vincere, quindi faremo di tutto per andare a giocare bene contro squadre molto forti, sarà dura, però l'obiettivo è quello di arrivare il più lontano possibile e di cercare di portare a casa un trofeo. L'ultima volta che ci sono andato più vicino è stata qualche anno fa la partita che abbiamo impiato 3-2 contro Kazan, quindi spero di poter ancora arrivare a giocarmela tutta sempre con Trentino Volle e con la mia squadra per riuscire a toglierci delle belle soddisfazioni. Un'opportunità di giocare ad alti livelli? Sì, prima bisogna qualificarsi, però è per quello che si è contenti di fare la Champions e si rimane col broncio quando si rimane fuori perché si sa che sono partite sempre più di alto livello in questa manifestazione qua e che oltre a essere prestigiosi ti aiuta anche a crescere per il campionato. Cambia qualcosa a livello di preparazione? Adesso la preparazione è una parola grossa, quindi è lontana, però sono delle date su cui fissare le bandierine sia per quel che riguarda la programmazione ma anche l'aspetto motivazionale.